e dunque premiazione dei cinquanta Rana categoria ragazzi terzo classificato Matteo Michieletto Sporting Noale secondo Andrea Zausa Leo Sport e primo in trenta e diciotto per il team Veneto Mattia Dalfarra Gli azione cinquanta Rana Junior Maschi terzo Luca Gobbo Acquarea Vicenza secondo Alberto Pesce Sporting Club Noale e primo in ventotto novantaquattro per il team Veneto Leonardo Lucato Ciao e dunque lasciamo terminare questa serie femminile dei 200 stile libero per poi proseguire con le premiazioni a disposizione Fanfani, Gasperotti e Beninca, Gusperti Magoga Aver, Raimondi Saliu, Barisonna e intanto si conclude questa